Siete fortunati, lo accettano. Dovreste partire al più presto. Chi paga? Chi paga? Voglio assicurarmi che tu guarisca. Come? È un segreto. Un segreto? Qualcuno ha un piccolo segreto. Una hostess. Lo sai cosa fa? Più o meno. Più o meno. Comunque, Mags, se lo fai tu, non deve essere niente di interessante. Sai fare le seghe, sei capace? Cosa? Sai fare una... seghe. Una seghe? Masturbazione? Scusa. Scusa. Ti sei slogata cadendo? No. Sollevando pesi? No. I tennisti hanno il gomito da tennista, Noi, quella da sighista. Me ne servono di più. Mi serve... Un nome. Con un nome guadagni di più. Kirina Palm ha entusiasmato il pubblico. A volte la prenderei a schiaffi. Ma Maggie ha fatto di tutto. Per nostro figlio. E io gliene sono gravi. E ce ne sono alcuni... che sono... grossi? Sì. Ha incantato la critica. Mickey dice che ho... la miglior mano destra di tutta l'ombra. Tu che vuoi fare? Restai. Marianne Faithful è... Io sono Irina Palm. Sono la migliore. Irina Palm. A dicembre al cinema. Io sono la migliore. Io sono la migliore. Io sono la migliore. Io sono la migliore.